Ciao a tutti, nel filmato che segue analizzeremo gli effetti dello stress da caldo nell'allevamento qua alle mie spalle. È una mattinata, ci sono circa 30-31 gradi la temperatura dell'aria, quindi valuteremo insieme in quale condizione di stress da caldo sono poste queste bovine e analizzeremo una situazione intermedia. Bene, seguite i video a seguito, quelli che farò. Voglio stimolarvi ora all'osservazione di quest'area dell'allevamento, in modo particolare parliamo di bovine nasciutta. Vedete che ci sono alcuni animali a mangiare, sono esattamente 5, una bovina è in attesa di entrare in autoalimentatore, poi abbiamo tutte le bovine tranquillamente in cucetta coricate tranne una là in fondo e una qua e un'altra che mi pare di vedere là dietro. Esatto. Quindi, come possiamo giudicare la distribuzione degli animali in questo gruppo? Buona, perché? Perché ci sono solo 3 animali in piedi e cercheremo di capire il perché, perché la cucetta pare ben conformata, l'antifuga abbastanza alto e quindi la bovina forse si coricherà a breve, staremo a vedere. E il resto degli animali ben distribuiti. Quindi direi che c'è un'ottima ventilazione di quest'area dell'allevamento, siamo in asciutta e in questo caso manca la possibilità di bagnare gli animali in corsia di alimentazione. Le asciutte hanno una minor capacità di produrre calore, addirittura ce n'è una che probabilmente è in parto in questo momento e quindi c'è estrema tranquillità nel gruppo. Oggi voglio farvi vedere, in questo breve video, come varia il THE nelle diverse aree dell'allenamento. Qui siamo nel gruppo di asciutte, sono le 10 del mattino, in una calda giornata estiva e andiamo a vedere il termometro portatile che ho preso. Dice che ci sono 32 gradi con un tasso di umidità medio del 44%. Andando a vedere sulla nostra solita tabella del THI quanto corrisponde, vedete come nella tabella i 32 gradi con il 44%, facciamo 45% di umidità, corrisponde a 80% di THI. Quindi in quest'area dell'allenamento abbiamo un elevato discomfort ambientale legato a un certo tasso di umidità e voi vedete che qua sono comunque presenti dei ventilatori ad elicottero con una stalla piuttosto ampia e con una ampia superficie di ventilazione che vedete sia sul lato est che a livello del lato nord. Ventilazione della sala d'attesa della mongitura, ci sono dei ventilatori ad estrazione e un cupolino aperto. Probabilmente durante l'estate c'è un certo ristagno di umidità e queste bovine rischiano di entrare in stress da caldo durante la mongitura del pomeriggio. Entriamo in un gruppo di vacche in lattazione, sono le 10 del mattino, questo è il lato esposto a sud della stalla, vedete alcune cucette assollate non hanno bovine e in questo lato dell'azienda, su questa fila non sono presenti bovine che invece hanno scelto di stare là in fondo. Quindi manifestano selezione per le cucette in base al cow comfort e al microclima interno della stalla. Il tasso di occupazione delle cucette in questo momento di riposo è discreto, potrebbe essere migliore, questo può essere un'indicazione verso un potenziale miglioramento della gestione dell'impianto di ventilazione. Qui vedete appunto dei ventilatori di quelli ad asse orizzontale posti diagonalmente sia sulla corsia di alimentazione sia a livello di cucette. Al centro dello schermo vedete l'interruttore o meglio la centralina, il rilevatore di temperatura ambientale di questa stalla che comanda la partenza dei ventilatori, i ventilatori sono partiti da circa una mezz'oretta, ora andiamo a valutare quello che è il il THI in corrispondenza di quest'area dell'allevamento. Quindi ho posizionato come al solito il termometro, vedete è posizionato intorno ai 26 gradi, consideriamo appena più di 26 gradi e un 50% di umidità diciamo nella stalla delle vacche in lattazione. Ricordiamoci 26 e 50, andiamo a vedere sulla nostra solita tabellina di rilievo del THI, 26 gradi, 50% di umidità, in questa parte della stalla abbiamo 73, un THI di 73. Possiamo anche spostarci in un altro lato della stalla per vedere a che punto siamo. Ora vi faccio vedere perché in queste cucette gli animali non vengono a riposare ed è semplicemente perché ci sono diverse condizioni microclimatiche a livello aziendale. Voi vedete che rispetto al video precedente qui abbiamo quasi 32 gradi centigradi e un'umidità lievemente sotto il 50%. Andiamo a vedere la nostra tabella, se vi ricordate i numeri precedenti, questa è la condizione, abbiamo detto 32 gradi, 50% di umidità, qui siamo a un THI intorno a 81, quindi assolutamente abbiamo visto come negli stessi 10 minuti a distanza di poche decine di metri all'interno della stessa stalla si viene a creare un microclima diverso che mette gli animali nelle condizioni di scegliere cucette diverse e posizionamenti diversi. Questo non è quello che si vuole ottenere quando si fa un impianto di ventilazione, per cui probabilmente questa azienda nei prossimi mesi verrà rivisto l'impianto di ventilazione modernizzandolo e valuteremo se Cow Comfort durante i 4 mesi di caldo della stagione estiva da giugno a settembre migliorerà e quindi migliorerà la produzione, migliorerà la riproduzione e si risurranno i problemi di transizione. Andiamo a vedere un'altra parte della stalla. Ora sono venuto nel lato nord-ovest della stalla dove apparentemente le bovine sembrano gradire le cucette, qualcuna se ne è andata e qualcuna si è alzata perché mi ha visto arrivare. Andiamo a vedere i nostri soliti due marchigegni, il termometro da 5 euro dai cinesi mi dice che ci sono 29 gradi con il 50% di umidità e ha queste condizioni climatiche, 29 gradi, 50% di umidità, 78 di THI. Quindi sicuramente una condizione migliore rispetto a quella che abbiamo appena visto. Quindi mi raccomando valutate il comportamento animale per capire come mai le bovine si distribuiscono in questo modo. Analizziamo uno dei potenziali sintomi di stress respiratorio, quindi stress da caldo, che è quello della valutazione della frequenza respiratoria. Per fare questo dovete porvi idealmente dietro l'animale, sia esso in piedi o coricato, e valutare qui dietro l'arco costale, sinistro o destro, la frequenza degli atti respiratori. In questa bovina ve li conto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Bene, ora proveremo col timer a fare una valutazione della frequenza per minuto. Quindi basta prendere un minuto e iniziare a contare gli atti respiratori. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, tredici, sette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitre, ventiquattro, venticinque, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove, trenta, trentuno, ventunerte, revving, trenta, tre, quattro, trentacinque, trentasei, trentasette, ventotto, trentanove, quarantoni, quaranta, quarantuno, quarantadue, quarantatreib, quarantaquattro, quarantacinque, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, il timer ci dice che sono finiti i secondi e quindi abbiamo una frequenza di 53 atti respiratori per minuto, quindi questa bovina in questo momento non sta manifestando uno sintomo di stress a caldo importante, infatti la vedete tranquilla che si lecca e rimane in cucetta, la bocca è chiusa e non è bocca aperta, la sua dirinfettaia sta ruminando, quindi in questo momento non possiamo dire che gli animali sono eccessivamente stressati, in realtà sappiamo che fisiologicamente per loro c'è caldo, siamo appunto a 29 gradi di temperatura ambientale e i ventilatori stanno andando a pieno regime. Volevo mettervi in risalto il lato sud ovest di questa stalla che vede appunto i tendaggi che permettono di evitare l'ingresso del sole diretto sulle cucette e la piantumazione con delle alberature che permetteranno nei prossimi anni con l'accrescimento di creare un ombreggiamento, un raffrescamento naturale di tutto questo lato della stalla, quindi qui l'allevatore ha fatto un ottimo lavoro. Uno dei rischi infatti del sole battente sulle corsie è che ci sia un'eccessiva formazione di una patina o un eccessivo essiccamento sulla quale poi si forma una patina d'acqua sulle quali le bovine possono scivolare. In questo caso il tutto si è risolto appunto col montaggio dei tendaggi. Vacca lasciami stare! Se non riuscite a crearvi un impianto di irrigazione a goccia grossa ad hoc potete fare come questo allevatore che ha messo sopra la mangiatoia un tubo da dispersione dell'acqua che qui vedete con gli ugelli quelli per l'irrigazione a goccia a goccia negli impianti di irrigazione per le piante e non me ne vogliono le ditre costruttive però piuttosto che niente possiamo fare installare all'allevatore un sistema di questo tipo casalingo e piuttosto economico che crea rifiutare gli animali. Eventualmente così lo convinceremo negli anni prossimi a mettere un impianto di aspersione fatto meglio e fatto appunto a regola d'arte per le bovine. Chiaramente poi parte dell'acqua andrà diciamo nella corsia e verrà asportata mediante i mezzi meccanici quindi questo determinerà un lieve aumento di quelle che sono appunto le direzioni. In realtà l'elevato raffrescamento che avranno le bovine determinerà un vantaggio elevatissimo in termini di benessere animale. Bene abbiamo visto questa situazione per cui in base all'analisi che abbiamo fatto di questo allevamento lo stress da caldo in questo momento non è importante ma è solo lievemente sentito dalle bovine e quindi diamo un voto di 6-7 a questa spalla e cercheremo di vederne i miglioramenti nei prossimi anni in base appunto al colloquio che avremo con il proprietario. Vedremo purtroppo situazioni peggiori ma fortunatamente anche situazioni migliori. Ciao a tutti!